e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi parleremo dei migliori boss di resident evil in generale quindi di tutti i resident evil questa ovviamente è la mia personale classifica non sono in ordine di importanza ma è un ordine diciamo ragazzi casuale partiamo subito direte questo cosa si è bevuto oggi beh avete presente la vipera in resident evil 1 che si chiama jan jan one boh non lo so come si pronuncia comunque quella vipera lì per capirci il macabro risultato degli esperimenti fatti con il t virus su una vipera di montagna diciamo che forse magari oggi a molti di voi può risultare un boss poco incisivo ma vi assicuro che per l'epoca era qualcosa di memorabile questi invece li odio profondamente mi hanno terrorizzato in una maniera pazzesca c'è margaret baker e jack il suo dolcissimo marito lui in grado di prendere varie forme lei il mio incubo peggiore in quanto è in grado di controllare eserciti di insetti io odio insetti in qualsiasi loro forma anche il figlio lucas non è da meno un vero pazzo psicopatico che gioca con noi in una stanza davvero inquietante stile so l'enigmista passiamo a resident evil 2 vi è il tanto famoso mister x forse all'inizio non è tanto terrificante diciamo ma l'ansia che crea l'essere inseguiti da questo tizio dovendosi poi districare tra i vari zombie leaker ed essere immondi beh lo rende un elemento diciamo capace di alzare la dose di tensione durante l'esplorazione della stazione di polizia anche quello schifo di william berkin che si inietta il virus g per sopravvivere all'alfa team e poi praticamente si trasforma in quella roba che insomma se non lo sapete è meglio perché è veramente orribile boss proveniente invece da resident evil 4 verdugo veloce e letale anche se si tratta di un boss alla fine molto semplice da battere basta o congelarlo o poi se volete ingaggiarlo potete sparargli appunto dopo diciamo averlo congelato per farvi capire potete sparargli oppure tirargli un colpo di lanciarazzi e va giù che è una meraviglia ma se proprio insomma avete un pochettino di paura come il sottoscritto io mi sono dato infatti è semplicemente evitabile nel senso aspettate dell'ascensore e poi scappate direttamente senza affrontarlo anche il secondo scontro con krauser il resident evil 4 lo reputo molto ben fatto uno scontro ricco di pathos azione lui è uno dei boss che ho odiato e amato allo stesso tempo sapete lo scontro lì col coltello tutto il tempismo diciamo è uno scontro abbastanza bello ed è una delle boss fight che preferisco in resident evil 4 forse quella più bella ragazzi è tra tutte quelle che ci sono come non mettere in questa lista il mitico nemesis di resident evil 3 ma non quello del bruttissimo remake che hanno fatto ma bensì di quello originale che era davvero inquietante dovrete il più delle volte scappare e per l'epoca la presenza così dinamica di un boss in un gioco vaffanculo va al desktop era qualcosa di molto innovativo e praticamente vi dava cioè dava la caccia ai membri della stars ho pensato molto anche al boss di casa beneviento veramente un cavolo di incubo quel luogo ed è secondo me in resident evil village uno dei momenti uno dei momenti più alti a livello di tensione con quell'essere orrendo che spunta poi all'improvviso e quelle bambole lì che animate insomma vi attaccano e tentano di ammazzarvi infine ci sta evelyn magari anche questa una boss fight che non è proprio il massimo però è il personaggio in sé ad essere molto inquietante e che è anche ben caratterizzato viene salvato dai baker e all'apparenza sembra una bambina innocente in cerca di aiuto ma in realtà è un'arma biochimica pericolosissima che tramuterà la famiglia bakery in quello che poi vedete in resident evil 7 questo si vede in un dlc tra l'altro questi sono diciamo i miei dieci spero di aver contato bene boss preferiti di resident evil quali invece sono i vostri fatecelo sapere sotto nei commenti il video finisce qui come al solito mi invito iscrivervi al canale lasciare un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanita delle notifiche non perdervi gli altri video e supportare il canale vi ricordo che saremo live anche su tiktok per sapere quando saremo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ah che bella visciata che bella ah che bella così che andiamo